Sì, è un marathon, non un sprint. Sì, certo? Devi portarlo, devi portarlo, devi fare questo club, sai? No, non era! Oh, Kurt, era Kurt. No, non era Kurt, non era Kurt. Ciao a tutti i notori di Lega Nerd, siamo sul red carpet dell'anteprima di Guardiani della Galassia 2 a Londra. Qua c'è il blue carpet, ci sono qua casse tipo da rock star, perché questi Guardiani della Galassia sono delle vere e proprie rock star. Li abbiamo intervistati, gli abbiamo chiesto delle curiosità. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 aprile e se vi è piaciuto il primo, questo secondo non deruderà le vostre aspettative. Ma adesso diamo la parola a Chris Pratte e Sochi. Sì, sì, sì. Grazie! Ho avuto alcuni nicknami nella mia vita. Uno dei più memoribili è quando ero in high school. La gente mi ha chiamato animale. Sì, lo so, certo? Non so che tipo di animale, ma solo animale. Grazie! I'm going to choose Brain Fart. Because I tend to do those at least that many times a day. Thank you! For myself? Oh, you can't choose your own nickname, but I was given the nickname Monkey Boy when I was younger. And I think that's pretty cool. It might be a little like Taserface. It sounds silly, but I was really proud of it. Yeah, thank you. For me? A nickname for myself? I don't know. I don't think I would choose a nickname for myself. I'm happy with my name. My whole family calls me Jimmy. And it's very embarrassing when they come on set and they're calling me Jimmy in front of my cast and my crew. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for the rest of me. After all these years, I found you. And what the fuck are you doing? I'm your father, Peter. Grazie per la visione!